Pasta con funghi e pancetta. Facile, velocissima e davvero squisita. Per prima cosa rosola la pancetta a calore medio per 5-10 minuti. Trita finemente un mazzetto di prezzemolo. Quando la pancetta sarà ben rosolata, toglila dalla padella e mettila da parte. Fai soffriggere per qualche minuto uno spicchio d'aglio tagliato a metà con un filo d'olio. Immergi la pasta in acqua bollente salata e cuocila per metà del tempo di cottura. Unisci i funghi surgelati al soffritto e cuocili per 5 minuti a calore medio. A metà cottura trasferisci gli spaghetti nella padella con i funghi. Continua a cuocere la pasta come se fosse un risotto, ovvero aggiungendo acqua di cottura via via che la pasta la assorbe. Terminata la cottura della pasta, spegni il fornello e aggiungi una noce di burro. Mescola per mantecare la pasta. Aggiungi un po' di prezzemolo e mescola. Trasferisci la pasta nei piatti. Aggiungi un po' di funghi, aggiungi un po' della pancetta rosolata in precedenza, aggiungi una manciata di prezzemolo. Macina infine un po' di pepe sopra la pasta. Buon appetito!